Viaggio in Molise torna a Frosolone per raccontarvi una giornata importante per questa comunità. Da oggi infatti il comune di Frosolone entra a far parte ufficialmente del circuito dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo voluto raccontarvi questa giornata importante dal punto di vista della promozione turistica al di là dei confini regionali raccogliendo alcuni contributi dei protagonisti. Umberto Forte, direttore nazionale del circuito dei borghi più belli d'Italia. Avete scelto anche Frosolone. Perché? Innanzitutto perché lo stesso sindaco ci ha chiamati e ci ha detto che Frosolone rispondeva i requisiti della carta di qualità che è la nostra carta per poter far parte dei borghi più belli d'Italia. Siamo venuti a vedere se quello che il sindaco ci aveva detto era reale e abbiamo trovato che almeno all'80% la cosa potesse andare. Nel momento in cui Frosolone è entrato a far parte dei borghi più belli d'Italia allora deve anzi incominciare un certo iter che abbiamo anche tra l'altro tracciato nel momento in cui è entrato a far parte dei borghi. Quindi adesso ci aspettiamo che certe cose vengano fatte e ci vediamo fra un paio d'anni per vedere se queste cose sono state almeno iniziate. Cosa bisogna fare? Sono tante le cose che bisogna fare. Sicuramente bisogna fare in modo che la qualità della vita degli abitanti migliori. Bisogna tenere presente anche il fatto architettonico quindi rifare alcune facciate e completare alcune parti dell'acciottolato che ancora è un po' traballante per cui queste sono le cose diciamo le prime cose da fare. Poi quando parliamo di qualità della vita si intende un po' tutto. Lei è già stato in Molise, ci sono altri paesi molisani nel circuito dei borghi? Quali sono le potenzialità di questa terra? Le potenzialità del Molise secondo me sono tantissime. Soltanto che il Molise a mio parere ancora non si è fatto conoscere e non riesce a farsi conoscere. Quindi ritengo che bisognerebbe fare una politica ancora più attenta al turismo perché le potenzialità ci sono tutte. tutte. Oggi i borghi del Molise che fanno parte della nostra associazione sono quattro, due in provincia di Campobasso e due in provincia di Serna. Ultima domanda, quali i vantaggi che porta l'adesione al circuito dei borghi più belli d'Italia? Sicuramente il fatto di farsi conoscere. Considerate che noi abbiamo una guida che ogni anno va in edicola e in libreria. Ne vendiamo intorno alle 40-50 mila copie l'anno. Abbiamo un sito che viene gettonato da 1.300.000 persone che rimangono proprio nel sito dai 5 ai 6 minuti. quindi vuol dire far conoscere tutte queste nostre realtà. E poi abbiamo dei rapporti molto stretti con l'Enit, con il Dipartimento del Turismo, per cui andiamo spesso all'estero. Attualmente il Presidente è a Mosca per la MIT e quindi tutto questo vuol dire far conoscere tutte le nostre realtà, questa Italia sconosciuta, a un grande pubblico. Vittorio Piscitelli è uno degli artigiani di Frosolone che tengono viva questa grande tradizione della lavorazione dei cortelli e delle forbici e lei ogni volta che vengono i gruppi a vedere il Museo dei Ferri Taglienti li accoglie in un modo particolare. Cosa fate all'interno del museo? Beh, io ho il compito di fare la dimostrazione della forgiatura, cosa che da anni non si fa più. Cioè il lavoro, come si faceva una volta, tutto a mano. Quindi possono vedere dal vivo come si realizza un coltello, è così? Esattamente. Spiegando cosa si fa per realizzare un coltello, qual è la procedura? Da una barra di acciaio si riscalda portando la temperatura intorno ai 900 o 1000 gradi e col martello si sagoma questa barra di acciaio secondo quello che si vuole ottenere, sia una lama di un coltello o di una forbice, diciamo. E man mano poi la lavorazione procede fino a quando viene data una sagoma appropriata e così questa è, diciamo, la prima fase della forgiatura. Approssimativamente quanto tempo ci vuole per realizzare un coltello? Ma dipende, dipende dai coltelli perché i coltelli ce ne stanno un'infinità di modelli, sia di grandezze che di tante cose, diciamo. Comunque intorno a 4-5 ore ci vuole per fare un coltello. In sintesi, volendo convincere un turista a venire a Frosolone, cosa direbbe? Io direi che può trascorrere un weekend in maniera tranquilla, gustando i migliori prodotti che il territorio dà, Frosolone è famosa per i formaggi, per gli insaccati, può assaporare l'area della nostra cittadina, quindi delle nostre tradizioni, quindi vivere un pochino le nostre tradizioni e questo lo può fare visitando i tre o quattro musei che noi abbiamo allestito come quello del Museo del Costume, il Museo dei Ferritaglienti, la Casetta del Pastore dove può degustare quindi appena realizzati i prodotti. Quindi un ambiente accogliente, può soggiornare nelle strutture dell'albergo diffuso, nei bed and breakfast, negli agriturismi, perché il nostro paese ha circa oltre 250 posti letto. Quindi diciamo un target di riferimento che è quello della famiglia, ma non solo, anche il target di riferimento per chi vuole praticare dello sport, tant'è vero che è frequentatissima la nostra montagna, soprattutto la Falesia della Morgiaquatra per gli amanti dell'arrampicata che da anni frequentano il nostro paese e che sono presenti tutto l'anno. Quindi è una vacanza che penso può dare soddisfazione e questo lo riscontriamo anche negli atteggiamenti e nelle parole di chi viene a visitarci che rimane sempre soddisfatto dal loro soggiorno qui a Frosolone. Domenico Dinunzio, consigliere regionale con delega al turismo, momento importante per Frosolone e più in generale momento per riflettere anche sul futuro del settore turistico in Molise. Cosa si può fare per rilanciare un settore, lanciare meglio un settore che stenta a decollare? Cosa si può fare? Bisogna crederci innanzitutto perché io ritengo che sia uno dei settori che può creare occupazione, può creare sviluppo, può creare economia, puntando su quelle che sono le nostre qualità migliori, che l'ambiente, che il territorio, che il paesaggio, che anche tradizioni, borghi, borghi di eccellenza e oggi siamo qui proprio per questa occasione in cui Frosolone è uno dei sette comuni molisani riconosciuto come borgo di eccellenza per le sue caratteristiche proprio non solo di borgo storico ma anche per le peculiarità di tipo ambientale, di tipo artigianato. È molto molto conosciuta ed apprezzata Frosolone per le sue caratteristiche, per le sue tradizioni che è legata ai coltelli, alle forbici, quindi apprezzata in tutto il mondo. Quindi credo che sia una delle considerazioni migliori perché è incastonato in questo ambiente bellissimo che è la montagna di Frosolone, Colle dell'Orso. Credo che ha tutte le caratteristiche per essere sviluppata e per essere apprezzata non solo dal Molise ma da quanti vorranno riconoscere al Molise questa qualità ambientale che ci deve contraddistinguere e ci deve far sognare anche per quello che sarà il futuro. Sono previsti investimenti per incentivare questo settore? Noi stiamo puntando sulla nuova programmazione 2014-2020. Uno dei pilastri su cui la Regione ha voluto appoggiare anche una serie di investimenti sarà sicuramente quello del turismo, della cultura, dell'enogastronomia che sono settori che tra di loro legano benissimo con il turismo ma che è anche la qualità ambientale. Quindi credo che sia sicuramente perché i caciocavalli, i tartufi, le tradizioni, i tratturi che sono tutti elementi che possono far sì che il turismo possa essere rilanciato alla grande anche in Molise. E con questo è tutto. Prima di salutarvi vi ricordiamo che questa puntata potete rivederla chiaramente su Tele Molise al canale 11 o su Tele Molise 2 canale 12 o ancora sul canale tematico Molise mio, il canale il 212. Potete seguirci anche dall'Abruzzo, canale 96, o dalla capitale Roma e dal resto del Lazio al canale 749. Naturalmente queste e le altre